Eccoci qua, paziente paziente di calcio ben trovati da San Siro Festante, Inter che rimonta, torna la pazza Inter, 3-1 la Lazio, si rilancia per la Corsa Champions ragazzi Una partita incredibile, una partita stupenda, una partita in cui l'Inter ha dominato soprattutto nel secondo tempo ed è riuscita a recuperare il gol del primo tempo di Felipe Anders dopo errore, scivolone di Acerbi E ragazzi sbloccandolo, appareggiandolo solamente nell'ultimo quarto d'ora e poi dilagando, ottenendo un bellissimo 3-1 ragazzi Allora, io dico, a parte Acerbi e forse un pochino Danfries, tutti gli altri mi sono piaciuti moltissimo Anche Inzaghi mi è piaciuto molto, soprattutto nei cambi, mettendo dentro Gosens, Lautaro, Cialanogui, arretrando un Di Marco molto molto positivo nei braccetti L'Inter nell'ultima mezz'ora praticamente ha dominato la partita riducendo la Lazio nella sua area di rigore, la miglior difesa del campionato la Lazio ragazzi Con un Casale che fino al primo gol dell'Inter secondo me è stato perfetto e un Provedel che con le sue parate dimostra di essere la top 5 dei portieri più forti d'Italia Ragazzi, io la palma del migliore in campo, non la do a Lautaro Martinez, comunque è entrato alla grande, ha fatto due gol, ha dato garra È stato molto, molto positivo, anche se all'inizio ho sbagliato qualche pallone, qualche stop di troppo, ma Romero Lukaku Romero Lukaku ha fatto oggi, secondo me, una prestazione maiuscola, sempre presente, ottime sponde, ma soprattutto due assist di fattura importantissima Soprattutto il secondo, non è solo di una tecnica, di un sinistro precisissimo sulla corsa di Gosens che poi impatta, si fa anche male cadendo in fila sotto le gambe di Provedel Ma anche di intelligenza tattica, grandissima palla di Romero Lukaku con contagiri, lui secondo me è stato il migliore in campo dell'Inter Oggi bravissimo anche Gosens che è fondamentale anche nel primo gol dell'Inter andando a recuperare la palla e poi segna il 2-1 e poi c'è la Noglu Ragazzi, molto, molto bene, Brodvich, Mkhitaryan, anche loro hanno tirato la carretta per tutta la partita, hanno fatto una partita di qualità, di sacrificio A parte a Cerber, ripeto che non ha avuto solo lo scivolone del gol della Lazio, ma ha perso anche qualche palla di troppo E Dunflitz, un po' troppo pasticcione, non mi sento di bocciare nessuno, anzi, tutti bene, anche Simone Inzaghi Queste sono delle vittorie, sentite San Silo ancora festante Che fanno bene non solo per la classifica, per la Corsa Champions, ma soprattutto per la semifinale contro i Cugini Perché quest'Inter, anche sotto, non smette mai di giocare a calcio, di produrre un ottimo calcio E soprattutto fa vedere che finalmente il gruppo è unito Bravissimo anche Barella che soprattutto nel primo tempo fa di quegli appoggi, fa anche un tiro al volo bellissimo Che va fuori di poco e sembra molto molto maturato da questo punto di vista, anche dal punto di vista della Ligia Quindi buonissime sensazioni sia per la Corsa Champions, che era fondamentale di vincere oggi E sia per la Champions Test, la semifinale col Milan e i tifosi del Napoli Saranno pronti a sbocciare, vedremo, seguiremo Napoli e Salernitana Ragazzi ci vediamo live, un saluto qui da un San Siro, sempre spettacolare Anche dopo pranzo, ciao ragazzi